Ma stiamo iniziando! Oh mio Dio, allora, ciao Cree, praticamente tu sei muta, ok? Per ora sarai muta, però tranquilli, noi saremo veramente simpatici tutti quanti insieme. Allora, come funziona? Chiaramente si prendono tutte queste cose, devo spiegarlo perché io sono l'esperto, raga, e lei non sa niente in realtà, lei è veramente una scimpanzè. No, sto scherzando, sei simpatica, lo sai vero questo. Allora, come si gioca? Ah, allora, signora, ho bisogno di oro perché devo prendere la spada in ferro, quei poveracci che si prendono la spada in legno non serve assolutamente a niente. Oh, grazie, fa veramente bene. Allora, 7 di d'oro, ok, poi dopo, allora, dici che io ti debba comprare anche a te una spada in ferro? Sarebbe effettivamente ottimo. Ho paura che però il rosso attiri troppo l'attenzione dei nemici, il che non è positivo affatto! Oh, allora, io ho fatto una sorta di cucuzzolo, come vedi, e praticamente ora è molto carico. Però ci dobbiamo mettere altri brocchi qua sopra perché è più bello! Allora, prendiamo questo. Oh, porco di miserio. Cos'era questo suono del drago signorile? Cerchiamo di fare di meglio, cara cri... Allora, senti, fai così, fallo tu questo perché non assolutamente voglio. Io invece sai cosa vado a fare? Vado immediatamente a prendermi altri blocchi, chiaramente, così vado ad espandermi su altre isole. Perché è giunta assolutamente l'ora di farlo, effettivamente. Se vuoi, vieni con me. Andiamo dai diamanti perché assolutamente ne avevamo bisogno e assolutamente dobbiamo concentrarci sulle tattiche, sulle strategie. Perché questa cosa... Allora, dovete sapere ragazzi da casa che noi non sappiamo giocare alle Bedwars, ok? È tutta una menzogna quella che stiamo facendo noi ora. È solo tutta una menzogna. Siamo un po' inesperti completamente e voi dovrete insegnarci come si gioca perché io, sinceramente, faccio un po' di fatica, ok? Quindi se voi siete più bravi, per favore, aiutateci perché dobbiamo assolutamente imparare. Perché sono molto divertenti le Bedwars. Allora... Vai via! Difendimi! No, no, vieni qua! Brutto e schifoso! Ragazzi, porca di quella puzzola maiala! Letto distrutto, comunque siamo veramente deficienti. Ma come ti è venuto in mente di abbandonare il letto mentre io stavo qua? Dai, siamo morti, uffa! Bene, 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 seconda partita perché facciamo schifo. Siamo già morti. Brutto figlio di... Mannaggia a te! L'ho ucciso? Forse l'ho ucciso! Ne manca solo uno, mi sa. Sì, ne manca solo uno, wow, bene. Ok, cerchiamo di non sbagliarci. Letto distrutto, no. No! Chi è stato? Fateci sapere se volete vedere altri di questi video. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Ciao!